Pronti? Petri, ce l'abbiamo anche. Sono stato nominato mentre ci portavano lo champagne per la mia istanza con l'ice bucket, quindi era quasi un dovere la coincidenza. Vai, Vioco. Poi ti nomino. Mi hai quasi mancato. Va bene, adesso devo nominare qualcuno. E nominerò Giovanni Bocciartieri con cui faremo un panel presto alla Blogfest.